Nel weekend stop alle corse del Frecciarossa. Il servizio era stato introdotto nel giugno scorso con due novità rispetto allo scorso anno. La fermata Centola Marina di Camerota a Palinuro e l'attivazione delle corse anche il venerdì. I dati diffusi finora da Trenitalia parlano di un successo che migliora rispetto allo scorso anno, con Sapre e Centola che risultano le stazioni con i numeri più gratificanti. La città della spigolatrice infatti è quella con il maggior numero di passeggeri in arrivo, 2720, e in partenza, 2668. Centola invece fa registrare numeri importanti, considerato che il servizio qui è stato attivato soltanto quest'anno. 1998 gli arrivi, 1859 le partenze. Agropoli invece è quella con il maggior incremento rispetto allo scorso anno, il 100% di quelli in partenza, 1821, il 20% invece in arrivo, 1530. Poco più indietro Vallo della Lucania, 1714 gli arrivi, più 60% rispetto al 2017 e 1509 le partenze, più 70%. Non tutti però guardano con soddisfazione i risultati raggiunti. Polemiche infatti sono emerse da parte di Assoturismo, ITR, Vibonati, Villa Mare, che non esita ad attaccare la classe politica per la scelta di attivare lo scalo di Centola. Questo infatti avrebbe tolto passeggeri alla stazione di Sapri. Inoltre sarebbe stato più opportuno logisticamente, sottolineano dall'associazione, attivare la stazione di Pisciotta per permettere di raggiungere le località costiere di Palinuro, Caprioli e Marina di Camerota.